Allora, queste creazioni nascono da una passione che mi porta avanti da tanto tempo, che prima era solo un hobby e poi ho trasformato anche il lavoro. Mi piacciono molto i colori accesi e poi è un dono naturale questo del disegno, insomma, della creatività, per cui la sfrutto. Allora, ho iniziato sui sassi e poi man mano ho sperimentato su altri materiali, il legno, la stoffa, altri materiali, sì. Esatto, allora, non creo grandi quantità, però comunque sì, io mi pubblicizzo sui social, vendo attraverso i social, vengo a fare mostre qui al chiostro perché mi trovo benissimo e quindi poi mi contattano attraverso i social, il numero di telefono, Whatsapp, insomma, per acquistare, sì. Sono un'autodidatta, quindi non ho studiato al liceo artistico, quindi, ripeto, è un dono di natura che io comunque coltivo perché comunque mi piace, è una passione, però se dovessero chiamarmi sì, lo farei volentieri. Grazie. Grazie.